La Corte d'Appello di Messina ha emesso sette condanne, ben più pesanti rispetto alle sentenze di primo grado, ed una soluzione a conclusione del processo scaturito dall'operazione Affari di Famiglia. La retata antidroga, messa a segno dai carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello, è scattata il 6 giugno del 2014. Le accuse per gli imputati che controllavano il mercato dello spaccio di droga nelle principali piazze nebroidee sono a vario titolo traffico, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti e per alcuni con l'aggravante dell'associazione delinquere. Tra coloro che furono assolti in primo grado, con sentenza del Tribunale di Patti del 25 luglio 2016, sono stati condannati Antonino Conti Mica e Salvatore Marino Gammazza di Tortorici, alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione, Giuseppe Gonzales di Tortorici e Valentino Conti Bellocchi di Torrenova, condannati entrambi ad un anno e 4 mesi. Rideterminate le pene di Alessandro Talamo di Tortorici, che dai 10 anni e 4 mesi del primo grado passa a 13 anni e un mese, e quella dei Tortoriciani Giuseppe Barbagiovanni e Sebastiano Galati Massaro e Michele Bontempo Ventre di Rocca di Caprileone, che si è aggravata notevolmente passando dai meno di 4 anni del primo grado ai 10 anni e 9 mesi inflitti in appello. Francesco Anastasi di Galati Mamertino e Salvatore Calogero Conti Bellocchio di Torrenova sono stati entrambi condannati a due anni e 6 mesi e 10.000 euro di multa. Tutti gli imputati condannati sono stati anche interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. È stato invece assolto, perché il fatto non costituisce reato, Luca Talamo di Tortorici, che era stato condannato ad un anno e mezzo in primo grado. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Alessandro Pruiti Cerello, Laura Todaro, Bernadette Grasso, Pietro Paolo Vicario e Stefano Rametta, mentre altri quattro imputati dell'operazione Affari di Famiglia erano stati condannati con il rito abbreviato.